Salve ragazzi, sempre benvenuti ancora qui su Opinione di Luzio Logicamente oggi vi voglio portare alla ribalta di 10 consigli utili per non guardare Breaking Italy Ok? E ve lo dico io da peracottaro, logicamente Nella mia umile opinione di Luzio, che non so per quanto rimarrà umile Ma comunque sia, io mi battaglio contro questa gente che sono dei peracottari, insomma, realmente parlando Breaking Italy, anche nel suo gergo nickname Shooter Aids You Insomma, con l'inglese non è che me la cavo tantissimo, sono 10 consigli utili Allora, Shooter Aids You, dato che non so come ti chiami Quando parli delle qualità di un leader, vedi un attimino di sapere anche parlare Perché tu un attimino, quando eri in trasmissione con la tua bella showgirl Hai detto una cosa veramente, tu ti stavi mangiando le mani Stavi dicendo che chi guarda Berlusconi, chi guarda Mussolini, è perché sostanzialmente sono uguali a lui Siccome, logicamente, era la massa che guardava quello Hai evitato che tutti erano dei mussoliniani e tutti erano Berlusconiani E ti è sembrato poco convincente con te stesso E ti sei subito fermato, bloccato, prima di concludere la frase Quindi, logicamente, a livello comunicativo Stai a fare chiacchiere e qualche volta ti mangi la lingua da solo Secondo, voglio dire, cioè Shooter Aids You, insomma Ti sei aiutato, logicamente, nel tuo fare, logicamente, con che cosa? Facendo, pompando le notizie, logicamente, del giorno Non dici niente Oggi ho notato una notizia di come Non essere più indipendente della cocaina Hai letto e hai parlato, come adesso sto facendo io Leggendo in maniera proprio meticolosa l'articolo che c'è sul sito www.mediaset.it Sei bravo a leggere e a essere mnemonico e a ripetere le stesse parole Hai parlato in maniera, capito, con quei terminoni medici In cui, te li ripeto anch'io perché l'ho letto, logicamente Mi hai fatto incuriosire da quanto eri eccelso, intelligente Ho voluto andare a vedere dove hai andato a parare E la persona che sa leggere come te, però, mi ricordo anche le parole dette Sei tale o quale Hai parlato di stimolazione elettromagnetica transcranica Che va a parlare, diciamo, in maniera più grossolana Capito, hai fatto anche il culturale per vicinante Gli altri magari non mi capiscono queste parole I luci del laser Stesse parole che ritrovi subito dopo a questa parola medica Si riparla dei luci laser Guarda caso Proprio io ti faccio anche la scalina che tu hai seguito proprio passo passo Le righe del testo Quindi io ti voglio dire Poi, innanzitutto, ho fatto la ricerca più accurata di quello che ho scritto su Mediaset E' stata una propaganda questa Vattela a guardare Non far sì che anche il tuo canale Che YouTube Anzionate è un canale you free Quindi uno dovrebbe portare qualcosa di nuovo Comunque sia Portare quello che Non ti dico che è se Wikipedia O comunque sia Se fai l'opinione Come faccio io Logicamente mi prendo le... Ma se tu ti prendi la causa Diciamo che come ti prendono la cosa Cioè, grande cose E dici Sei risolto Grazie a un italiano Antonello Bonci Che però studi in America Perché in Italia non ci sono le risorse Di quel di là Non si è studiato un cambio Si è fatto, secondo me, un caso Sui topi Però io sono andato a cercare Su un sito americano Del medicina Che dicono che è stato anche fatto Non su Antonello Bonci Su otto pazienti E su sette hanno avuto Risultati positivi A livello temporaneo Ma su una parte avversativa Su un primo step avversativo Cosa vuol dire avversativa? Te lo spiego Vuol dire Che sei andato a lavorare Sul discorso Del Diminuire l'ansia L'irritabilità Però diciamo Si deve poi passare Alla fase successiva Quella di togliere L'aspetto appetitivo Della persona Cioè la voglia Di usare la cocaina Che ancora su quello Comunque si deve lavorare Comunque Quest'elettro TMS Scritto Naturalmente E in italiano Voleva dire Quello che ho già accennato Si Si parla Che si va a lavorare Su una parte Della corteccia Iperfrontale La parte davanti Ma si fa anche Con i suoni E si fa in tante maniere E viene molto utilizzata Sui casi Della depressione Logicamente in America Comunque sia Non è convenzionante A colase Da questo tipo di terapia E in più Vengono adottate Quando i farmaci Quando uno è farmaco resistente Cioè Ai farmaci Non hanno risposta Sul paziente Sulla cura E loro approvano Questa cosa A livello come Ultimo tentativo Quindi si studia Si spensa E non è dato niente Allora Dovete essere un po' più realistico Non fare la propaganda di media Se ti coltivare La notizia del giorno Come fa anche Serrafino Massoni Ci interessa Poi tu ci metti Un po' di mediatricità Come Daniel Doesn't matter E hai creato La tua chicca La tua grande genialità Tanto di cappello Poi altra cosa Terza manfrina Cioè Poi dopo Non fare le disquisizioni Con te stesso Che stai al telefono Con un coglione E vai pure a dire Quanto sei bello Ma fa l'intervista a quello Stai a parlare con nessuno Con il vicino da casa Ti vuoi fare anche attore Di che cosa Non fai ridere Cioè battuta zero Cioè dieci consigli Cioè una persona Se vuoi fare l'attore In quel caso Stava una telefonata Ha fatto Questi dieci consigli Sono dieci video Insomma che mi sono visto Poi altri video Che lui ha fatto Logicamente Altri consigli Cioè È meglio che eviti Di togliere quel canale Di Shooter Aids Propondi la stessa manfrina Del canale Di Breaking Italy Dove c'è sempre te che parli Però lì Diciamo Ci sono quindicimila iscritti Ma le visualizzazioni Callano Del 70-80% Logicamente Allora Spieghi Dove spendi col tuo nome E niente Per aver creato un brand Come se fossi una televisione Dentro una grande televisione Perché Lo chiami show televisivo E fai un palinsesto Come se fossi Mediaset Logicamente Non sta tanto Perché logicamente Uno youtuber Che si spende con se stesso E come faccio io Come fa Serafino Massoni Che poi Prende Prende Ammenadito Quello che è il tema Ma Fa così Io volevo dire anche Gli altri consigli Però vedo che qui Siamo già 6 minuti Già mi sono stancato Arrivederci ragazzi Meglio che vi dico Alla prossima Comunque Non guardate Brick and Italy Se lo guardate Cesti in alto Non mi piace E chi è scritto Veramente ragazzi Se facessero esami Di coscienza Oppure Commentate Il video di risposta E io vi risponderò A tutti voi A vederci ragazzi A vederci ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima